La classifica di B anche in questo caso dopo la ottava. Fiorentina e Cesena al comando a 12 punti, a 11 Bari e Cosenza, Padova a 10, Brescia, Ancone e Lucchese a 9, Verona, Fidelisandria, Venezia a 8, a 7 punti Ascoli e Cireale e Modena, a 6 Pisa, Palermo e Vicenza, Monza a 5 punti, Ravenna a 4, Pescara. La doppietta di Hubner nel secondo tempo dà la vittoria al Cesena contro il Vicenza e permette alla squadra di Bolchi di affiancare la Fiorentina in testa alla classifica.